In questa settimana abbiamo assistito ad un diffuso allarme idrogeologico che ha interessato sia l'Emilia-Romagna che la Lombardia, con inondazioni diffuse persino nella centro città di Bologna. L'allerta meteo sembra essere rientrata riguardo a Cremona, dove il fiume può raggiunto il livello più alto alle 15 di ieri pomeriggio, toccando il 2,40 m e inondando lungo poi Europa, dove l'acqua stava per toccare gli ingressi delle società canottieri. Quest'oggi gli addetti delle associazioni sportive erano impegnati ad eliminare la scivolosa fanghiglia creatasi sul passaggio pedonale. Tanti curiosi che non hanno resistito a constatare il livello del fiume e gli eventuali danni causati, paragonando la piena con quella di anni precedenti. Siamo venuti a vedere il fiume. L'avete mai visto così alto come ieri? L'avete mai visto molto più alto. Siamo vecchi, abbiamo visto le piene quando scavalcavano gli argini piccoli e arrivavano all'argine grande con tutte le società sotto, più di una volta. Sono venuta a curiosare, sì, perché sono stata ieri, anche ieri era molto più alto il fiume, sì, e oggi vedo che è un po' più basso. Ieri era fin qua, si vede anche, sì. E poi di là dove sono le persone era tutta acqua. Fa un po' paura quando è alto, sì, è vero. Però adesso vedo che si è calmato un po'. Lei l'ha mai visto così alto il fiume come ieri? Sì, l'ho visto più alto anche l'anno scorso, credo, se non sbaglio, era fino a lì su. Sì, fa paura. Il mio amico ed altri 4-5 siamo proprietari del Bodinco, che è quella casetta che ce l'ha. Andiamo a verificare quali sono le cose da fare per poter essere in sicurezza, in quanto calando il po' bisogna spingerlo verso fuori. La barca che era semiaffondata l'abbiamo tirata su, l'abbiamo asciugata e no, di danni immediati non ce ne sono, evidenti non ce ne sono. Però la situazione è di allerta, in quanto ci sono delle variazioni di livello abbastanza importanti.